Ciao, sono Elettra Aldinio, ho 15 anni e frequento il liceo classico Ernesto Cairoli di Varese e questa è la seconda volta che partecipo al premio Chiara Giovani, quest'anno con il racconto intitolato Eos Rododactylus che in greco antico significa Aurora dalle dita di rosa ed è una parte diverso del primo libro dell'Odissea. e volevo fare un grandissimo in bocca al lupo a tutti i finalisti del premio Chiara. Ciao!